La cosa più amminevole è che io non l'ho seguito, ho fatto tutto da solo, perciò 10 su 10, voglio dire, sei troppi euro. La cosa più amminevole è che io non l'ho seguito, ho fatto tutto da solo, perciò 10 suoni, perciò 10 suoni, perciò 10 suoni, perciò 11 suoni, perciò 10 suoni e perciò 11 suoni, perciò 10 suoni e perciò 10 suoni, perciò 10 suoni, perciò 15 suoni. Vado in mano, vado in mano